mi presento sono maria sole e sono nata da una famiglia di attori molto importanti cioè fondamentalmente di un attore molto importante che mio papà era tognazza un fratello ancora più grande che si chiama ricchi che fa il regista casa nostra era così arrivava monica vittipo arrivava mastroianni il giorno mi hanno fatto trovare raffaella carrà perché mi piaceva molto per dire che sono cresciuta in un ambiente in cui il cinema la recitazione per me era la cosa più naturale del mondo all'ordine del giorno la passione per una cosa per molti la capisci subito voglio fare quello lo sai già in altri casi la scopri scopri facendo una cosa che sei portato che ti piace o che non ti piace per niente siete in relazione con l'altra e realmente connesso con lei e stop bravi ragazzi bravissimi la prima volta che passo delle giornate dei pomeriggi con dei ragazzi a fare le scene siete stati veramente bravi molto molto spontanei molto in parte vi siete piaciuti veramente tanto brava patrizia anche per la scelta dei ragazzi e anche per le pomeriggio alla che non è fosilatamente indubbiamo la ultima grazie hotel